Iniziamo subito, intanto con le milanesi come l'abbiamo detto prima, però subito con un sondaggio, ovvero chi è più forte tra il Milan e l'Inter attualmente, visto che sono le due in corsa. L'abbiamo fatto di queste due perché sono le due in testa. Sì, esatto, perché sono le due in testa al campionato. Andate a votare sulla nostra pagina di Instagram, di Settegold, e io direi di cominciare appunto parlando un attimino del Milan. Ho sentito Tiziano molto entusiasta e infatti ho sentito Tiziano molto entusiasta. Dati numerici alla mano, l'Inter ha segnato 19 gol e ne ha subiti tre. Milan ha segnato 15 gol e ne ha subiti otto, quindi sette, quindi otto. Quindi in difesa il Milan finisce sempre per concedere qualche cosa agli avversari, anche con la Lazio nel primo tempo ha faticato. Per cui allo stato attuale delle cose, secondo me, è favorita l'Inter, anche se io sono arci convinta del processo di crescita della squadra rossonera e dei giocatori rossoneri, anche i giovani. Michele? Sono abbastanza d'accordo con Tiziano, nel senso che l'Inter ha parlato del campo nel derby, parte diciamo davanti, nel senso che è più consolidata. I due cambi sono stati il portiere e un attaccante, quindi diciamo che la struttura anche tattica, il modo di giocare, la proposta di gioco è più in continuità. Il Milan ha cambiato invece un po' di più e quindi può avere dei margini di miglioramento ancora che dobbiamo scoprire. E quindi non è detto che il Milan possa migliorare anche molto e nel girone di ritorno vivere un derby con altre forze in campo. Può anche migliorare molto, non ho detto che migliorerà molto. Può migliorare. No, no, l'ho detto, può migliorare. No, però abbiamo visto comunque, abbiamo visto un cambio. Può anche non migliorare. Può anche migliorare. Tiziano, non so se sei d'accordo, però comunque abbiamo visto un Milan in crescita anche nel pressing un po' più alto, un centrocampo che adesso sembra che funzioni anche con Adli e tutto quanto. Quindi mi sembra che un pochino si sta ingranando rispetto alle prime di campionato. Sì, ma anche il rendimento di certi difensori segnatamente Tomori sta crescendo e quindi di conseguenza è un aspetto altrettanto importante anche quello di una difesa che è più solida, con un rendimento decisamente non alterno, ma un rendimento continuativo, continuo. Allora Paolo, i nostri due colleghi si sono un po' schermiti nel senso che non hanno voluto dare proprio un giudizio completo, forse magari anche un pochino per scaramanzia. Ma io tenterei di dire... Come si fa a dare un giudizio definitivo dopo sette giornate? No, no, non definitivo, ho detto un giudizio... Non si può dare un giudizio dopo sette partite, ovvio. No, ce lo dire in questo momento è così, uno può pensare come meglio credere. Giustamente, tu lo chiedi adesso, uno risponde adesso, giustamente. Allora, io dico questo, la mia premessa... Allora, tu vorresti che io mi sbilanciassi. Io ti dico... Se vuoi lo faccio io, eh. No, no, lo dico io. Allora, ti dico questo. A me diverte un po' più, esalta il Milan, perché è rivoluzionario nel mercato, nella scelta dei giocatori e nella fase offensiva. Però, però, se devo sbilanciarmi ti dico un pezzettino di più l'Inter, perché innanzitutto se nella corsa contano gli scontri diretti, cioè voglio dire, vogliamo dare fiducia all'Inter che ha vinto cinque derby nel 2023 e poi perché... Però penso l'unico che valeva lo scudetto, eh. Ma quello però... No, io dico gli ultimi cinque, io dico gli ultimi cinque. Due di campionato, due di Champions e questo qua. No, dico solo questo. Il Milan ha vinto l'andata in campionato la quinta giornata a tre a due. Quindi, quindi... L'anno scorso. Dico che il 2022 è a settembre del 2022. No, io stavo dicendo che il Milan ha vinto non solo quello, ma anche l'unico che valeva veramente lo scudetto. Quello di febbraio. Sì, no, 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 però stando alle ultime cose, dico... E poi l'Inter comunque ha una modalità di gioco più consolidata e quindi ha meno automatismi da registrare. Ecco, ti dico, leggermente più l'Inter anche se il Milan mi intriga molto e mi diverte tanto. Io sono molto d'accordo su quello che ha detto, voglio andare da Vigliotti. Sei d'accordo? Sì, molto d'accordo. E ci aggiungo una cosa, non so, poi parleremo chiaramente del Napoli perché non ci dobbiamo dimenticare che lo scudetto sta sul petto del Napoli e quindi è lui la squadra da battere poi alla fine della fiera. Fino a che non sarà successo è il Napoli la squadra principale. Però ti vorrei chiedere, partendo da quello che ha detto Paolo, io ho l'impressione che le due squadre quest'anno siano molto più diverse dello scorso anno, sia Inter che Milan. Ossia il Milan, mantenendo un impianto simile a dei giocatori più elettrici e più in grado di cambiarti la partita all'improvviso, con l'arrivo di Loftus-Cic, con l'arrivo di Pulisic, con la probabile esplosione di Leao, sono tutti giocatori che pur mantenendo un equilibrio possono spezzare la partita. L'Inter ci ha fatto vedere gli stessi pregi e gli stessi difetti dell'anno scorso pur cambiando profondamente la rosa. E' possibile questa visione o tu ne hai un'altra? No, è abbastanza similare. Le fotografie sono abbastanza chiare di Inter e Milan, però la novità più grossa, ma non soltanto dal punto di vista di mercato, di uomini, è certamente il Milan. Certamente il Milan, l'Inter ha cambiato qualche cosa, il portiere ha cambiato un po' in attacco, ma la struttura inzaghiana è quella. Non si discute con un centrocampo fortissimo, a cinque, con il famoso gioco delle coppie, con Di Marco, con Carlos Augusto, dall'altra parte c'è Dumfries, ha preso quadrato. Voglio dire, ha cambiato qualcosa, ma non la struttura. Se deve essere una delle due squadre, deve aver cambiato tanto o quasi rivoluzionato, questo è il Milan. E ribadisco, l'ho detto all'inizio, continuo a dirlo, l'Inter è un passo avanti. Lo era aborigine nelle famose griglie, il Milan può far molto bene, sta facendo benissimo, ma devo mettere un passo ancora avanti l'Inter, anche per il derby, anche per il 5-1 devastante. Mi sembra una fotografia molto obiettiva questa. E voglio andare da Marcello, Marcello, allora, perché però secondo te, tutto sommato, le due squadre stanno alla pari, l'Inter ha vinto, ha dominato il derby, però insomma alla fine della fiera i punti sono gli stessi. Eppure, se noi sentiamo tutti i critici, tutti gli esperti di calcio, eccetera, tutti mettono l'Inter, molti mettono il Napoli, qualcuno, neanche troppo pochi, dicono Juve, il Milan non lo nomina nessuno, eppure è primo in classifica in questo momento, ed è quello che tutto sommato... Pioli è, Pioli ha detto la Juve. Sì, dai Pioli prendeva per i fondelli, cioè nel senso che la Juve l'abbiamo lista tutti, quindi lasciamo perdere. Parliamo di queste tre qua, in questo momento, secondo me, Inter e Milan sono in testa della classifica tutte e due, quindi non puoi dire che il Milan è inferiore al lì. 2-0 della Fiorentina, il raddoppio, ed è, credo, un autogol di Vieteschi, adesso poi vedremo se effettivamente è stato lui, ma sì, Vieteschi ha che in scivolata va a deviare un cross di Caiode dalla destra, la palla tagliata, la deviazione sfortunata anche qui del difensore del Cagliari, 2-0, certo che la Fiorentina bene, ma il Cagliari malissimo, è situazione davvero da monitorare anche questa, se in panchina non ci fosse un big come Ranieri, probabilmente oggi si parlerebbe di una squadra che esonera l'allenatore da un momento all'altro, quindi panchina sicuramente non solidissima, la Fiorentina che strappa palla sulla tre quarti con Buonaventura, poi l'inserimento di Caiode dalla destra, la palla in mezzo e la deviazione sfortunata. Devo dire che il miracolo Ranieri l'ha fatto portandolo in Cereal, il Cagliari, che non era una squadra attrezzata per porrevi vedere. Hai ragione, però quello che mi colpisce è che le squadre di Ranieri sono sempre state molto solide, questa non è solida, concede spazi, concede occasioni, insomma l'abbiamo visto anche in altre partite, è vero che per carità, calendario difficile, ha giocato con l'Atalanta, con il Milan, con la Fiorentina, però prende gol con troppa facilità, l'autogol comunque è di Dossena, inquadravano Vietesca ma in realtà è stato Dossena l'ultimo a toccare il pallone. La Fiorentina ha perso solo con l'Inter quest'anno, è vero che veniva dal gioco di Dicotto. Ha perso sonoramente ma ha perso solo con l'Inter, Paolo, però questa vittoria della Fiorentina tutto sommato ci dimostra una serie di cose, innanzitutto che il campionato non è per nulla scontato e che poi alla fine della fiera non ci sono, tutti dicono, quelle quattro mettendo Juventus, Inter, Milan e Napoli, no? Perché la Lazio la fanno un po' fuori rispetto all'anno scorso. Anche l'Atalanta ieri ha dimostrato. Invece, ecco, stavo dicendo, tra Atalanta e Fiorentina, insomma, non sono delle squadre che non è che ti regalano nulla, è che stanno lì. Scusate, poi il Sassuolo non insegna qualcosa? Cioè il Sassuolo che batte l'Eventus 4-2, che batte l'Inter 2-1, non è l'ulteriore dimostrazione che in questo campionato certezze non ci sono. Nulla è scontato, infatti. E noi stiamo partendo esattamente da questo, Tiziano. Ti dico la cosa bella che emerge dalla Fiorentina è che tu puoi essere competitivo senza avere una super rosa, visto che per esempio quando si parla... E giocare bene, vuol dire. E giocare bene a calcio. Sì, mettere in difficoltà gli altri, infatti. Però, vi faccio un esempio banale, noi abbiamo celebrato, perché lo vediamo giocare all'estero, abbiamo celebrato De Zerbi, grande, grande, grande. Se De Zerbi ti fa in Italia quello che ha fatto col... e fa tutto benissimo, e poi prende sei gol... Con la stonfilla di Emery. Con la stonfilla di Emery, gli tolgono la pelle. Però può essere un incidente di percorso... In senso figurato, naturalmente. E va valutato per quello che insegna e che fa vedere. Può essere un incidente di percorso. Noi siamo sempre molto legati al risultato, alla partita che viene dopo. E quindi non programmiamo mai niente. Devi vedere oltre il risultato, in questo caso. Di De Zerbi mi è piaciuto, lui come Ancelotti, che hanno fatto male... Si sono presi loro delle responsabilità. No, mi è venuto questo pensiero, perché invece vedo che qui, tipo il signor Sarri o il signor Murigno, quando perdono, è colpa degli altri, è colpa del calendario, è colpa del campo, è colpa di un mercato che fa schifo, eccetera, eccetera. Ribadendo proprio il fatto che non è colpa loro. Ti interrompo, ti interrompo. Io non so perché continuano a permetterglielo, a pagarli e a tenerli. Infatti questo è sbagliato. Noi ci vediamo subito dopo la pubblicità. Allora voglio chiedere a Tiziano una cosa. Senti, ma che fa Girù? In che senso capire? Normalmente, quando tu lo celebri, che fa Girù? Mi fa Girù la testa. Ah, ecco. Allora subito dopo la farai girare la testa. Mi fa Girù la testa. Mi fa Girù la testa. Mi fa Girù la testa. Eh, tra poco ti girerà ancora di più. Ti girerà ancora di più. Eh, godo come un riccio. Arriva il vino, arriva. Eh? Arriva il vino. Arriva, arriva. Arriva, arriva. Allora, per la gioia di Tiziano Crudeli, facciamo girare un po' la testa con l'intervista di Girù. Sei pronto? Sono prontissimo. Molto bene. No, dalla regia dicono che non c'è ancora, quindi aspetta un attimino, va bene? Sei seduto, rimani seduto lì. Per i 37 anni, perché ha compiuto adesso 37 anni. Eh, vabbè, però insomma è sempre un giocatore che ha la sua... Aspettando Girù posso aggiungere una cosa su quello che dicevi prima? Su un segnale che arriva, diciamo, dall'Inter seguendola quotidianamente, perché tu dicevi che sono gli stessi difetti l'anno scorso. Oggi anche Cialanolo in conferenza lo ha ripetuto, che una differenza rispetto all'anno scorso è approcciare sempre con la stessa testa qualsiasi avversario. L'anno scorso l'Inter è caduta con le medio piccole, 12 sconfitte in campionato, perché spesso non approccia... Ma anche quest'anno le prime cadute sono state con le medio piccole. No, 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 perché col Sassuolo, con l'Empoli ha approcciato bene, poi l'ha persa con il Sassuolo nel secondo tempo, ma ha approcciato le partite tutte nello stesso modo. Però... Con la razzosità de no. È vero, ma son banalità, nel senso che è ovvio, è ovvio che in teoria... E no, Paolo, l'anno scorso... Ma non lo facevano con coscienza, è un riflesso inconscio, tu non è che vai in campo, dici... Però era un difetto, l'hai detto pure tu in una puntata, me lo ricordo, quando hai parlato della ferocia di Inzaghi, che può essere un fattore diverso. Cioè, l'anno scorso l'Inter dava l'impressione, vincendo belle partite, anche bene con delle big, di entrare in campo quasi con sufficienza... Era meno feroce, meno determinato. Invece quest'anno, anche nelle parole che sono un segnale, ti dicono tutti i giocatori l'obiettivo è quello, di vincere la partita, di vincere lo scudetto. Sì, però c'è tutti questi violini che usi per questa Inter, l'Inter è forte, però è un difetto che tu non trovi mai, perché quando si parla di l'Inter... Ah, è vero, se vuoi ti faccio l'elenco, ti sto dicendo una cosa diversa dall'anno scorso. Scusami, ma Salerni no, non le stai dicendo, sono le stesse cose, Salerni no, non le stai dicendo le stesse cose, Salerni no, non le stai dicendo, salernitana e Inter, l'hai vista? Il violino. Il primo tempo, il primo tempo, l'hai visto? Sì, l'ho visto, l'Inter ha approcciato bene a Salerno, ha approcciato bene, ha creato cinque palle gol in dieci minuti, pure l'anno scorso perdeva le partite così, approcciava bene, dopo dieci minuti, se l'ha mangiata tre, quattro gol, il primo tipo in porta che subiva... Si mangiava i gol, è vero, però non sempre ha approcciato bene, tipo a Empoli l'anno scorso fece un primo tempo bruttivo. Ma se non sai cosa voglio dire, perché rispondi? No, sei tu che parti all'attacco, di la tua senza dire la sviolinata, nessuno fa le sviolinate, ho detto una differenza che è cronaca. Vai, vai Marcello, la zia faceva il violino alla Juventus, vai Marcello, la zia faceva il violino alla Juventus, ve lo ricordate? Hai finito, Marcello, tu l'hai finita la tua... Allora vai. L'ho detto, dovevo spiegando e stavo dicendo che secondo me un difetto dell'Inter è il fatto che noi pensiamo che l'Inter sia comunque una corazzata indistruttibile, fortissima, senza difetti, che abbia una panchina lunghissima, cioè chiunque metti in quella squadra lì gioca a memoria e fa. Non è così. Infatti è vero che l'Inter ha giocato il primo tempo, ha creato 4-5 palle gole, secondo me se avesse segnato, non gliela niente a nessuno, nel senso che se lo sarebbe meritato. E poi bene che non le ha fatte, caro Borrelli. Sì, ma tu Marcello sta corazzata indistruttibile, dove l'hai sentita nella prima mezz'ora di trasmissione, corazzata indistruttibile. Cioè, forse è ricollegato con un altro pianeta, non lo so. No, qua abbiamo tutti detto che l'Inter e il Milan sono due squadre forti, anche il Napoli entra. Tu, ah, la corazzata indistruttibile, ma dove? Ma chi? Devi parlare sempre, tu sei una radio. No, tu dici cose che gli altri non dicono, attribuisci agli altri cose che non dicono. Non ho ancora centrato il punto delle cose che ti voglio dire. Però questo derby d'Italia è buono, eh? È bello, è bello. Questo derby d'Italia è buono. Marcello, finisci un attimo questo concetto. Ma se sborrelli tacce. Vai, 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 finisci un attimo questo concetto. Avevo già finito prima. Cioè, io dico che secondo me, per vincere poi l'Inter quella partita, è vero che Lautaro fa una straordinaria prestazione, ma deve entrare Lautaro. Deve entrare Lautaro. Devono entrare gli altri sostituti. Tu devi togliere quelli Klaassen, i Marcos Augusto, li devi togliere e devi mettere i titolari. I momenti in cui metti tutti i titolari, i forti, allora tu puoi vinci. Quindi questo dimostra che un difetto, se ce l'ha quest'Inter, al momento, e poi magari, ripeto, noi stiamo parlando ad oggi, fra sei mesi, fra due mesi, tre mesi, magari diremo altre cose, ma ad oggi c'è un difetto è che se non gioca nei titolari, l'Inter non è così infallibile come la stiamo dicendo. Sono quattro belle imperfette, ho detto, anzi tre belle imperfette. Ma è ovvio che Lautaro, secondo me, tra l'altro, ne approfitto per vedere una cosa, una valutazione vedendo queste sei, sette partite, cioè Lautaro è uno dei tre, quattro, non di più, fuori classe che giocano nei campionati italiani. C'è lui, c'è Osimè, c'è Leao e se vogliamo anche Gwaraschegna. Anche Gwaraschegna. Basta. E beh, sai, però... Ma lo devi mettere sempre. Però di quanto riguarda i due soldi, lo devi mettere sempre. Dei quattro fuori classe, quindi non è sorprendente. Però si sono accesi, si sono riaccesi adesso. Scusate. E dicono te, uno della Juve, perché la Juve non c'è nessuno. Troviamo tanti ottimi. Ma non incominciare a fare le tue battutine, non incominciare a fare le tue battutine. Vigliotti, sai bene che quest'anno la Juventus... Ma no, tu fai le battutine, tu fai le battutine. No, però Marcello c'è da dire che effettivamente Blauvic si è rivalutato molto, anche qui. Tu l'ha fatto le battutine, ho chiesto, ho chiesto, ho fatto una domanda. Ma l'ha detto persino, e lo chiedi ma con ironia, quasi per culare. Ti conosco e lo so che lo fai per quello. Ma il problema è che lo stesso allenatore... Ma non è vero. Perché devi dire così? Ma stai nervoso stasera. Perché stai nervoso stasera? Perché sono sicuro di quello che dico. Inter, Milano e Napoli hanno rose, hanno rose più forte. Ho chiesto di Blauvic. Sì, ti ho risposto. Comunque, secondo me, scusa se ti interrompo Maurizio, mi collego un attimino al discorso che ha fatto, mi collego un attimino al discorso che faceva Borelli dell'analisi un attimino dall'anno scorso a quest'anno dell'Inter. Io quello che penso è che, sinceramente, la parte difensiva sia migliorata. Certo. Inter l'anno scorso prendeva tre gol a partita. In trasferta. Esatto. Siamo presi tre in sette giornate. Guarda, avevamo commentato insieme in Coppa Italia quel Inter-Parma, Parma-Inter, adesso non ricordo bene dove giocassero, che però c'era un attaccante del Parma che scartava i tre difensori dell'Inter, cosa che adesso effettivamente non sta accadendo e c'è questa ferocia appunto dal punto di vista... Io voglio andare al Milan, perché hanno fatto l'esempio, le Aue, ma il Milan non è solo le Aue. No. O. Quindi... Ho detto e ribadito che gli aspetti positivi in prospettiva sono la squadra, i giocatori, anche quelli che non sono titolari. Mi è girata molto la testa. Sì, perché sei stato seduto tutta la pubblicità, quindi sì. Sì, normalmente si alza, si è sbarellato un attimo. Sì, ma poi sei risaluto subito. Mi sono alzato, veramente sono molto... No, ma che giro hai trovato adesso, a parte tutto... Mi manca rigore. Gioco per la squadra, ma tutto va bene. Giroud ha segnato quattro gol con prese di calcio di rigore. Che non sono pochi, comunque. Non sono pochi. Sì, qualche rigorina. Con tre rigori, però. Sì, anche rigori, bisogna anche saperli segnare i rigori. Comunque, a prescindere da questo, uno degli aspetti positivi dell'attacco del Milan, che i 15 gol segnati, non lo dico io, è stato scritto dagli addetti ai lavori, sono nati da passaggi che hanno effettuato gli attaccanti tra di loro. Cioè, quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire... Che partecipano al gioco. Bravo. Che l'attacco del Milan non ha un punto di riferimento che può essere Giroud, ma ha tante possibilità di andare a rete con una serie di passaggi fra di loro che consentono a Tizio, Caio e Semprognano di andare a rete. Leao compreso. E' intelligentissimo, anche nella Francia, quando non segnava mai, non rinunciavano mai a lui per il gioco che faceva per la squadra. Cioè, per dire, anche nel derby, il gol di Leao e anche l'occasione di Teo Hernandez nel primo tempo, sono tutti e due assist di Giroud. Che quando la squadra ha bisogno, viene dietro... Infatti, lui che è intelligente, perché comunque non si... Guarda, i campioni comunque, quando parlano poi di calcio, tirano fuori sempre delle osservazioni, diciamo, molto pertinenti. Lui ha capito subito, ha detto, va bene, mi manca il gol, ci stiamo. Però io gioco per la squadra, la squadra a fuzione. Ma lui non ha mai fatto tanti gol, anche l'anno dello scuetto del Milan ha fatto... L'anno scorso il gol, il capo cannoniere del Milan è stato Leao con 15 gol. Lui 13. Il secondo Giroud con 13 gol. Senti, Gianluca, che ne pensi te di Adli, che è questo giocatore di cui qui al Milan parlano tanto? C'è una religione, no? L'Adlismo. Eh, beh, in questo momento va molto di moda. Dovremmo chiedere a Tiziano, profondo conoscitore, ovviamente, di casa Milan, più che sorprenderci in positivo adesso, perché è rimasto silente per tanto tempo? Cioè, delle due l'una... Guarda, tu mi hai detto questo, Gianluca, che lo chiedi a Tiziano. Sai a chi l'abbiamo chiesto noi? L'abbiamo chiesto a Giroud. Ti faccio sentire cosa ne pensa lui. Allora, Paolo, io ti faccio una domanda sulla base di quello che ha detto Giroud su Adli. Noi abbiamo visto che Inter e Milan hanno approcciato in maniera completamente diversa. Il Milan ha persino sconfessato il suo primo direttore Maldini e anche Massara, per affidarsi a degli algoritmi, delle situazioni, eccetera. L'Inter invece, ogni volta che si avvicinava a un giocatore, dopo un po' ci facevano sapere, no, ma Inzaghi preferisce un altro tipo di giocatore, no, ma Inzaghi questo non lo vuole, si affida lì. Dei due, visto che sono tutte e due in testa poi alla fine, qual è il sistema, diciamo che, secondo te, funziona di più? Beh, partono da due basi completamente diverse. L'Inter deve fare dei magheggi perché è sotto finanza al fair play e quindi, tranne rare eccezioni, che gli derivano da plusvalenze o da soldi risparmiati, come quelli del mancato acquisto di Lukaku ed è arrivato Pavard, prendono giocatori o in scadenza oppure, come nel caso di Frattesi, in prestito oneroso. Anche loro sono sotto settembre, Inter, Milan, Roma e Juventus, tutti e quattro sotto settembre. Però è diverso lì, c'è un aspetto, chiedo scusa se intervengo e interrompo, più sei quest'anno. C'è un aspetto estremamente positivo, il Milan ha chiuso il bilancio per la prima volta nella storia recente, in attivo di sei milioni, con un fatturato di quattrocento e passa milioni. Cioè, ha ottimizzato, ha ottimizzato anche per quanto riguarda, non lo dico io, lo dicono gli addetti in lavoro. No, no, l'ho detto io, in verità l'ho detto io prima, però fa niente. No, no, ma puoi dirlo tu, mi hai scritto su tutti i giornali, eccetera. No, 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 l'hanno detto prima. Quattrocento milioni di attivo, ma ripetita Juventus. Ma ripetita Juventus. Ma ripetita Juventus. Ma ripetita Juventus per la prima volta. No, dicevo. Dal 2017. Invece il Milan è un sistema rivoluzionario di fare calcio. Vabbè, tu hai detto con gli algoritmi, è un po' più di suggestione. Sì, è molto suggestivo, però l'hanno detto loro. No, anche se poi il Cardinale, in una recente intervista, ha detto dovremmo spingere di più la filosofia degli algoritmi, del money ball mutuato dal football americano. Però, in un'altra intervista, Scaroni oggi, celebrando finalmente e con merito il bilancio impositivo, ha detto facciamo acquisti, possiamo farlo, ma stiamo molto attenti agli ingaggi. Cioè siamo molto, molto fermi sugli ingaggi perché sono pesantissimi. Cioè la voce Costi, all'ordo. E poi anche per rivendere o prestare i giocatori con degli ingaggi sbagliati, sono una tassa di differenza. Paolo, siamo a una trentina di milioni di differenze tra l'Inter e Milan. Perché l'Inter è scesa da 130 a circa 115, il Milan è ancora 85, quindi molto sotto i 100. Però il Milan, come diceva Tiziano, ha superato anche il Milan adesso i 400, l'Inter già l'anno scorso ha superato i 400 milioni di ricavi, quindi sono due squadre che stanno andando diciamo a pescare. Oggi l'Inter anche c'è questo accordo con Qatar Airways, però lo stadio diventa uno sbocco obbligatorio per tutte e due per aumentare questi ricavi. L'aspetto è che hai 400 milioni, come il fatturato anche dell'Inter, ma hai un attivo di 6 milioni, mentre ci sono altre squadre, non faccio nomi, che hanno 100 e passa milioni di rosso. E quindi di conseguenza voglio dire che il Milan ha ottimizzato. Ma è l'obiettivo col 7-20. Parli dell'Inter, Tiziano. Anche l'Inter? A Juve diceva Gianluca, si è chiuso a meno i 150. Ho detto parla dell'Inter, Tiziano. L'Inter meno 85. Parla dell'Inter, Tiziano. Meno 85, ha ridotto di 40 milioni il passivo, era 120 e sono a 85. 140 era l'anno scorso il passivo, sì. L'Inter anche sta facendo questo percorso perché ha firmato con la UEFA il 7 milioni da lì. Però, ricordiamo, questo percorso deve portare ad avere meno 30 nell'arco di... Meno 60 nel triennio a partire da questa stagione. E meno 30 entro il 25. Meno 30 all'anno, di medio, diciamo, nel primo biennio, che è l'obiettivo di tutti i club. Cioè, nessun investitore vuole rimetterci, almeno al medio e lungo termine. Anche Ted Belli, che sta spendendo 700 milioni all'anno di mercato, il nuovo proprietario del Chelsea. Ah, come obbiettivo... Con dei risultati niente male, eh? Niente male. Anche Piff, che ha preso il Newcastle, l'hanno preso a 300, hanno detto il nostro obiettivo e in cinque anni decubblicare il valore del club. No, anche perché comunque, come diceva Scaroni, c'è sempre il controllo dell'UEFA. Non ti permette neanche di fare follie. Però, diciamo, chiudo, 20 secondi. Cioè, il mercato del Milan è più creativo e a piacere, secondo una filosofia. Quello dell'Inter è un po' più obbligato, ecco. È un po' più obbligato. Dici bene Paolo, tanto coraggio da parte dell'Inter effettivamente sul mercato. Federico, è finito il primo tempo della partita tra Fiorentina e Cagliari. Sì, 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 è finito. 2-0 per la Fiorentina, il gol subito al terzo minuto di Nico Gonzalez e poi al ventunesimo il raddoppio su autorete di Dossena, fin qui una passeggiata per la Fiorentina. Una sola occasione per il Cagliari, che però poteva essere importante. Eravamo sull'1-0, poteva essere il gol dell'1-1, propiziata però da un errore di Milenkovic. Quindi in realtà è una Fiorentina che sta dominando la partita e come vedevamo prima dalla classifica, in questo momento Fiorentina che aggancia Napoli e Juve. Quindi sta facendo un grande campionato e forse dobbiamo iniziare a tenere in considerazione anche lei, come teniamo giustamente in considerazione l'Atalanta, per esempio. Ma io sono convinto che adesso piano piano si assesterà il campionato e ci sarà da tenere in considerazione molte squadre, perché non ci sarà un Napoli come lo scorso anno. Maurizio, ma se la Fiorentina non pareggia con il Lecce 2-2, non si fa rimontare dal Frosinone 1-1 in testa alla classifica stasera. Esatto. Eh, lo so, però questo vale un po' per se l'Inter non perde col suo suolo. No, no, però ha ragione nel senso che anche le vittorie della Fiorentina, non so, a Genoa e Modolano. No, ma l'ha perso. Che sta facendo bene. Sì, sì. Col Genoa, con l'Atalanta. Sì, ma con i secoli ma non puoi fare una classifica. Allora anche la Juve se vinceva col Bologna aveva due punti in più. E però non lo meritava. Se vinceva ieri. Cioè, già lui sta facendo un altro discorso. La Fiorentina stava a pochi minuti dal termine in vantaggio. Io sto dicendo che con la... Io ho detto un'altra cosa. Eh, sì, è un'altra cosa. Cioè, forse non aveva vinto le partite. Cioè, la Juve con il Bologna doveva perdere. È un po' diversa la questione. Gli è andata bene che appareggiava. Forse la direttore doveva perdere con il rigore non dato, no? Sì, ma io sto dicendo che se la Juve non... Ma se la Juve faceva un gol e riusciva... Gli davano un gol in più, sicuramente gli davano il rigore alla Juve. Nel primo tempo segnava la Juve. Cosa vuol dire? Ma tu vuoi troppe cose. Non puoi fare la classifica. Allora anche il Milan se non prendeva quattro gol dall'Inter per pareggiava il derby. Era da sole in testa. Anche che ragionamenti sono questi, scusa. Ma avete ragione entrambi. Ecco, mettiamola così e andiamo in pubblicità. Esatto, andiamo in pubblicità. Ma aspetta, un secondo solo perché ha svicolato. Fa sempre così, dallo sgabuzzino. Lui si dice, ma... La domanda dall'inizio della puntata è... È più forte l'Inter o il Milan? Tu non ce l'hai detto. Ah, ma tu non me l'hai fatta rispondere. Hai intervenuto Borrell. E no, ti sei messo a divagare. Su, giù, su... No, secondo me... Secondo me l'Inter mi sembra forse più forte. Però io, ripeto, io ho visto il Milan e ha un gioco tale, una intercambiabilità di giocatori. Che è vero che ne ha comprati tanti, però Pioli riesce a intercambiare. Ha sbagliato una sola partita. Quella, lo sconto diretto con l'Inter. Ma ricordiamoci che anche in quella partita, visto che prima Tiziano ricordava anche le statistiche, difesa, attacche, eccetera. Cioè, quella sera l'ha giocata senza i suoi due centrali titolari, eh. Il Milan, la partita con l'Inter. Però ti devi sbilanciare, Marcello. Ti devi sbilanciare. Eh, dallo sgabuzzino 0-0. E beh, è come Allegri. Hai fatto Allegri. Secondo me sta diventando un'alligriza, Marcello. Ma non ho capito. Ce lo dici subito dopo la pubblicità, se sei ancora contro... Cioè, l'ha buttato la palla in tribuna in attesa della pubblicità. Esatto, esatto. Ha preso, eh, va bene. Non si è sbilanciato. Alla fine. Io e Bigliotti, basta. No, no, anche loro. No, si sono sbilanciati un po' tutti. Anche Tiziano e... Esatto. Allora, stiamo discutendo che è più forte tra Milan e Inter, ma adesso diamo lo spazio ai voi tifosi che avete votato sul nostro sondaggio. Allora, clamorosamente... È clamoroso. Sì, effettivamente sì. Il risultato è clamoroso. Molto clamoroso. Devo dire anche molto inaspettato. Devo dire anche molto inaspettato. Esatto, sì, sì, sì. E hanno fatto arrabbiare così tanto Tiziano che ha preso e se ne è andato. E vi spiego perché. Qual è il risultato? Allora, abbiamo per il 72%, se non vanno a errare, l'Inter, infatti, e il 28% soltanto in Milan. Quindi questo effettivamente è un risultato abbastanza... Che pensa allo scontro di rete, del 16 settembre siamo... Ma no, vabbè, non bisogna valutare... Torna, Tiziano, eh, torna tranquilli. Sì, però effettivamente... No, però adesso non è giusto fare una valutazione solo ed esclusivamente basata sul derby e tutto quanto, perché questo assolutamente non è giusto. Però abbiamo visto comunque un Milan in crescita rispetto... No, proprio dal punto di vista di gioco, anche qualitativo e quantitativo, dall'inizio del campionato. Ma anche perché il campionato non si vince solo con le big, anzi, è un vecchio adagio che dice proprio che il campionato si vince facendo percorso netto con le medio-piccole. Esatto. E poi magari nei scontri diretti uno lo vinci, uno lo perdi, uno lo pareggi, di solito succede spesso. Invece chi ha la continuità con le medio-piccole... Infatti il Milan ha battuto il Cagliari, ha battuto il Verona e tu hai perso con il Sassuolo. Con il Sassuolo. Eh, in casa, in casa. Ma infatti questa cosa è il Sassuolo, che è una mina vagante, è incredibile. Ma è un peso, è un peso ed è un vulnus perché? Per quella partita. Ma io dico non solo per quella, per questo mese, perché io ci metto dentro anche la Salernitana, dove hai rischiato molto. Poi il risultato è diventato largo, ma è diventato largo nel finale, dopo aver rischiato, anche sullo 0-0. Con la Real Società e con l'Empoli, già erano stati i protromi di quello che è successo poi con il Sassuolo. No, Maurizio, dai, Empoli e Salernitana sono una cosa, Real Società è un'altra, Real Società è iniziata la partita, ha giocato la Real Società. Io sto dicendo che nelle quattro partite di questo mese, ma sì, ma Empoli, ma Empoli Inter. Cioè, Empoli, Salernitana, lì si è vista la peggiore Inter possibile. Empoli-Inter ha giocato solo l'Empoli, ma anche Inter. Cioè, l'Empoli reduce dal 7-0 della Roma. Ha cambiato allenatore, ha fatto 1-0 con un tiro da 40 metri e poi ha preso quattro golle col Bologna. Infatti, tre gol col Bologna. Sì, che Pendere Azzoni non è un allenatore da catenaccio. No, anzi, anzi. Concettualmente, è un allenatore che fa calcio. Quindi l'unica partita combattuta è stata con l'Inter. Il Real Società. Ma combattuta? Ma l'avete vista Empoli-Inter? Ma come combattuta? Se l'avrà superata una volta in centrocampo l'Empoli. Ma come combattuta? Diciamo che non è stata una partita stra-brillante dell'Inter che la portava a casa. Sì, non è stata stra-brillante. No, però come dice comunque Michele, hanno fatto molto catenaccio. Sì, ma l'Empoli si stava. Dopo che viene da 7 gol presi, cambia allenatore, ha provato a tenere lo 0-0. Però comunque alla lunga, se tu provi a tenere il risultato, cioè alla lunga non paga, non ti salvi. È meglio giocare. È meglio giocare, perché intanto se giochi, anche in settimana, cresce il valore dei giocatori. Come hai detto tu, Andrea Azzoli è uno che gioca, però in quella partita ci stava. No, vabbè, vabbè, è appena arrivato così. Però, per esempio, io ho apprezzato molto ieri di Francesco, di Vago un attimo, con la Roma. Perché alla fine ha provato a giocare a calcio dal primo al novantesimo. La Roma non ha giocato a calcio, ha vinto. Ha vinto. Cioè, però, se tu vedevi due squadre... Ha avuto le occasioni anche il Frosinone. All'inizio due occasioni. Ma tutte le squadre oggi, come oggi, hanno... Quasi tutte se la giocano. Lo stesso, ce lo può confermare Federico, lo stesso Cagliari, che sembra che, insomma, stia subendo nettamente il dominio della Fiorentina, l'occasione per fare 1-1 l'ha avuta. L'ha avuta, sì, sì, sì. No, è vero, beh, certo, è normale, in 90 minuti di partita, a meno che non fai proprio un disastro, qualche occasione ce l'hai. Ma ragazzi, ma in Europa, l'Italia, ha fatto quattro pareggi e tre vittorie nel primo turno di Coppa Europea. Cioè, non ha perso una partita. Ormai è riconosciuto anche all'estero, la premiera ha i fatturati e va bene, però le italiane stanno iniziando a far vedere di poter giocarsela. Io penso solo che, però, in tutto questo ci sia un'eccezione, che è quella che abbiamo citato proprio all'inizio della trasmissione, che è la Lazio, perché effettivamente la Lazio, cioè, ha meno di 9 punti in 7 partite. e questo è una cosa che non succedeva veramente da tanto. La Lazio, la Tredico Madrid, per esempio, non meritava di perdere. Eh, ma infatti non ha perso, però. Anche se poi l'ha recuperata veramente in una maniera rocambolesca all'ultimo secondo. Siccome è rientrato Tiziano, forse, glielo voglio far rivedere, così gli prende un tuffo, così. Arbitro abisso al VAR Irrati, non so, Gianluca, che ha l'arbitrometro, la coppia abisso Irrati, come Irrati è un grande varista, così dicono, no? Assolutamente. Il migliore al mondo? Lo considerano il migliore al mondo? Penso agli altri. Eh, allora andiamo a vedere. Non so come considerino abisso. Io ho qualche ricordo di abisso, ce l'ho, c'è quell'episodio clamoroso del Fiorentina Inter. Allora, questa è una partita, chiaramente, che non può portare strascichi polemici, perché finisce 4-0. Quindi il risultato chiude tutto. Però di errori ce ne sono tanti. Cominciamo col primo. Questo, secondo me, era calcio di rigore. Ghiomber qui spinge Turam, con due braccia, cioè. È ridicolo. Adesso va bene che si tende a lasciare andare il gioco maschio, però il fallo è ancora fallo, non è cambiata la regola. Quello che dico... Quando tu spingi un giocatore con due braccia, prima lo trattieni, gli metti una mano sul braccio, una mano sul petto, e poi, visto che non riesci a tenerlo, lo spingi da dietro con due mani sulla schiena, questo è ridicolo. è un gioco di rigore. E invece qui non viene dato. E se tu non dai questo rigore al diciassettesimo, chiaramente poi dopo la partita prende un giro particolare, Michele. Perché a quel punto... A questo si è detto, il VAR non può intervenire perché le spinte nella parte alta le deve valutare l'arbitro di campo. E questo purtroppo è il protocollo. Io dico purtroppo perché voglio dare il beneficio del dubbio a visso. Cioè lui magari, nella sua posizione, è impallato per vedere queste braccia che si allungano. Sì, ma quante volte è impallato a visso? E serve, ma infatti... Ogni volta che arbitra c'è un impallamento di a visso. Però dico qui, se tu vedi le immagini, uno che con le due mani dicono a scuola calcio, non vai marcare con le mani lunghe così... Ma Michele, ma non c'è nessuno davanti a visso? Non c'è nessuno davanti a visso? No, io dico, il mio dubbio è che lui è impallato dal fisico, dal busto di Ghiomber, che è davanti a Turam. Le braccia le mette con a visso alle spalle. Per questo... Poi, non lo so, si vede a visso nell'immagine larga? Mi sembra che... Non è lontano. Non è molto lontano. Si vede che arriva dopo alla fine delle immagini. No, sta a dieci metri. Ma sì, ma sì, ma sono d'accordo con te Gianluca, voglio provare a capire come sia possibile. Cioè, come fa? Guarda, da qua lo stiamo vedendo. Non è messo male, ragazzi, eh. Ma no, è fantastico. È in posizione. Adesso magari può essere che sia proprio dietro Ghiomber e quindi non veda le braccia. Però l'assistente invece lo vede. Quindi secondo me è una scelta di non dare un rigore dopo un quarto d'ora però è una scelta sbagliata. Marcello, tu che sei sempre... Contro i rigori. Contro i rigori, esatto. Qua cosa dici? Ma qua si vedono le mani addosso, chiaramente. Il problema è che bisogna capire quant'è l'intensità. Perché un po' un po' Turam, chiaramente, cade per mestiere. Cioè, sente il contatto e si butta. Però bisogna capire quant'è l'intensità della spinta. Se c'è, effettivamente. Io devo dire la verità che quando l'avevo vista in diretta mi sembrava molto che avesse messo le mani addosso a Turam ma che la forza dell'intensità non fosse tale da farlo cadere. Paolo? È rigore. Rigore. Tiziano? Rigore. Rigore anche per te. Quindi, insomma, mi sembra tutti tranne Marcello. Forse Marcello... No, però Marcello non ha detto né sì né no. No, però ha detto che... Si è tenuto come al solito... Beh, ha detto che Turam non si lascia cadere però quindi credo sia più un no. Giusto Marcello? Sì, cioè, io non sono d'accordo con l'arbitro non aver dato rigore, ecco. Perché avevo questo dubbio o questo dubbio che lui si sia lasciato un po' cadere. E che quindi lui gli ha messo le mani addosso. È vero, si vedono le mani addosso ma non vedo quella spinta tale da farlo cadere. Però si vede, guarda, da questa immagine si capisce proprio come viene spostato. Prima lo trattiene. Ma non tanto questa che ha rallentato con la sinistra. Con la sinistra. Vedi proprio che c'è una differenza di... Ma scuola calcio, le braccia non puoi fare così. Con la sinistra lo spinge ma poi è come si sviluppa la fine. È sempre in ritardo. E questo ti dà il senso della forza. È sempre dietro. È mal posizionato. Non è mai davanti, mai. Non è mai neanche di fianco. Questo era solo il primo. Ce ne sono altri tre di Salernitana Inter e tutte e tre faranno discutere. Ve lo dico già. Dici bene Federico, ne parliamo dopo. Allora, eccoci di nuovo insieme. Stavamo andando avanti con la nostra varra assieme a Federico Bertone. Allora, vi dicevo che ci sono altre cose da andare a vedere in Salernitana Inter. Per esempio, al ventiquattresimo c'è questo intervento molto duro di Ciaranoglu su Legoschi. Qui l'arbitro ammonisce e la Salernitana ha protestato si è arrabbiata perché chiedeva anche qualcosa in più. Allora, guardate un po', insomma, le immagini sono, credo che parlino chiaramente, l'intervento è duro. Molto duro. Ciaranoglu non alza la gamba e questo è quello che lo salva. Però, qui viene fuori un impatto molto violento, tibia contro tibia, che se stiamo a quello che diceva Maurizio poco fa, e cioè che tu puoi mettere a rischio l'incolumità di un avversario, qui la puoi mettere a rischio perché comunque se qui Legoschi si frattura la tibia... Ma scusa, però anche lì... Diciamo, qui giallo viene confermato, è la decisione dell'arbitro. Però non è chi alza la gamba. Ma c'è la differenza che non alza la gamba perché l'altro pure pure verso lì. Certo, perché tutti e due corrono uno verso l'altro. Ma Maurizio, l'altro prende la palla. Però l'intervento è pericoloso. Allora non fai mai un contrasto. Allora ti togli sempre dei contrasti. No, no, io dico che è un contrasto pericoloso. Poi ci sta giallo. Diventa basket. Diventa basket. Vi ricordate Sanchez con Liverpool che fu espulso? Ultimamente è successo in Serie A, forse proprio lunedì scorso abbiamo commentato un giocatore che è andato a finire sull'altro e ha preso addirittura forse il rosso. Non mi ricordo. Ma questo è un tipo di fallo che se l'arbitro ti dà il rosso nessuno può eccepire. No, anche lì avevamo discusso. No, Michele è giallo ma avevamo discusso sul rosso. Molti arbitri decidono che siccome non hai alzato la gamba ti grazio. Ti grazio. Però il fallo rientra in quelli che se ti prendo che ti rimane piantato il piede sotto la gamba della spagna. Però scusami Maurizio ma allora quanti contrasti ravvicinati in una partita ci sono... Ma questi non sono ravvicinati. Aspetta, nel calcio moderno dove si va al doppio della velocità di una volta i calciatori sono tutti muscolari. Ma cosa si dovevano fare? Qui succede una cosa diversa. Guarda, se tu lo vai a vedere la palla è di Cialanoglu. Se l'allunga e quindi perde e quindi per recuperarlo fa un intervento quasi kamikaze. Se la rischia. Eh. Sì, sì, no, rischia. Però rischia, però lo salva, secondo me, quella cosa di ritrarre. Ma lo salva il piede basso. Di ritrarre. Ma non solo il piede basso. Ma lui lo ritrae perché ha paura anche lui a quel punto. L'impatto è violento. L'avversario corre verso di lui. Ma secondo me. Non va a fare, capito, con l'intenzione che deve fare. Ma esattamente. Quello può salvarlo. Ossia, il fatto stesso che l'avversario corre verso di lui quindi non è fermo significa che i due vanno all'impatto l'uno contro l'altro. Ma c'è troppo poco spazio tra i due. C'è poco spazio. C'è troppo veloce. Non possono evaporare nell'aria. E questo è quello che l'ha salvato. Non possono evaporare. Poi anche dopo il giallo va dall'arbitro se ci fate caso chiede scusa al giocatore e chiede scusa all'arbitro. Cioè non sa più come scusare. Ma no, beh, ma è ovvio. Però non poteva togliersi lì. Se no, uno rinuncia a giocare. Sì, sì. Marcello. I due vanno all'impatto l'uno contro l'altro. Ma c'è troppo poco spazio tra i due. Vanno troppo veloce. Non possono evaporare. Ma lui arriva troppo veloce. Questo è quello che l'ha salvato. Lui fa un intervento camicanze perché ha perso la parte. Lui però arriva talmente veloce che è vero che ritrae le gambe però arriva veloce che insomma l'impatto è duro. Sì, ma non può frenarsi. È a 30 centimetri dall'avversario. Perché parte veloce. Non può col colpo di bacchetta magica sparire. Però gli fai male. Lo so che non può sparire. Ho capito. Allora togliamo i contrasti del calcio. Cioè volendo non vai a fare quel tipo di contrasto. Però se lo fai se prendi la palla è tua se prendi l'uomo il rischio lo corri. Però perdonami. Scusa, faccio solo una domanda veloce a Maurizio. Sostieni che sia meno rosso o più rosso rispetto a quello che abbiamo visto? No, rispetto a quello di prima è meno rosso. Meno rosso. Però è rosso secondo me tu sarei No, visto che hai dato il rosso a entrambi volevo solo capire Allora però questo non c'entra cioè tu devi guardare se Lautaro è in chiara occasione da gol. Comunque diciamo che non è stata una gran serata per John Berg e che se ci fa però posso dire una cosa questa è una chiarissima occasione da gol quindi è rosso no perché in termini di regolamento c'è lo vato il lo vato è più avanti di E allora non è chiara occasione da gol per te Allora, no fattualmente è una chiara occasione da gol ma non è punibile come una chiara occasione da gol perché il giocatore della Salernità è più avanti Maurizio ma più avanti ma non è non può raggiungerlo non importa perché tu puoi dire che lui deve aggiustarsi il pallone andare verso quello che conta nel regolamento poi giusto sbagliarlo il regolamento deve poterlo raggiungere come lo fa raggiungere che al centro dell'aria e quello è a sinistra ma lui scusami la velocità adesso quando vedi un fermo fotografico ma non lo noti ma le velocità sono diverse perché lui è libero tra 0-1 ha dovuto saltare l'avversario vedi qui sta il contrasto mentre l'altro sta in gioconso non vorrei sbagliarmi ma è come sta tirando è come dice lui perché io credo che ho visto la partita in diretta e credo fosse Marelli sì ma erano tutti d'accordo sull'espulsione anche ieri sera le varie moviole diceva che quella posizione ha ingannato Marelli diceva che la posizione di Rovato ha ingannato l'arbitro perché dice che di fatto non era non sarebbe riuscito ad arrivare scusami la questione è questa tu sai se per caso Lautaro dopo aver saltato il dribbling qui deve aggiustarsi il pallone controllarlo no però noi parliamo di occasione da gol però quello è già partito quindi teoricamente quello ha una corsa a una velocità e l'altro a un'altra per te quindi non è rosso era giusto il giallo no io dico che il regolamento ti dice che se il giocatore è davanti non è chiara occasione comunque il placcaggio ma davanti deve poter andare se ci fosse stato lui contro gli All Blacks magari placcaggio avrebbero preso meno imbarcate poi per me è una chiara occasione da gol ovvio come occasione di calcio quindi il regolamento vi faccio vedere ancora due cose veloci così poi voltiamo pagina sono episodi per Marcello è una chiara occasione da gol per Marcello era una chiara occasione da gol era curioso era comunque secondo me ha rischiato il rosso quindi qua ci stava il rosso perché Lautaro era dritto poi secondo me Lovato forse avrei potuto anche raggiungerlo però se non lo puoi escludere ma allora se non lo puoi escludere è giusto il giallo allora qui vengo dalla parte di Maurizio c'è la chiara occasione da gol deve essere sicuro non lo può raggiungere se quindi abbiamo questo dubbio Tiziano secondo te era rosso giallo rosso quindi per te rosso senza ombra di dubbio senza ombra di dubbio di dubbio